Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi siamo di nuovo a parlarvi di una guida visto che me lo avete chiesto in tanti come vedete alle mie spalle c'è il sito che oramai conoscete tutti fortnitestore.io quello dove si possono acquistare in maniera totalmente legit le skin, i bundle delle skin quelle più rare di Fortnite, la Iconic, la Honor Guard, c'era anche disponibile la Wonder purtroppo finita oramai visto che l'avete presa tutta c'è anche il Dark Vertex ma c'è anche una skin che molti di voi hanno preso e che non sanno come riscattare che è la skin Ion, il bundle Ion disponibile al prezzo di 95 dollari solo, cioè completo quindi con il piccone, i 2000 V-Bucks, il deltaplano e la skin oppure solo 59 con la skin e basta. Giustamente voi mi dite ragazzi MaxHUDER io ad esempio gioco dal PC come faccio per riscattare la Ion? è vero, vi spiego i passaggi ragazzi che è l'unico modo per farlo. Allora, la prima cosa da fare è aprire innanzitutto il vostro browser, quindi andiamo con il cattura schermo ragazzi e andiamo su Google, ok? da Google digitiamo Microsoft, andiamo nel sito ufficiale di Microsoft dobbiamo creare un account Microsoft obbligatoriamente, quindi accedi in alto a destra lui ha il mio nome perché è il mio account Microsoft, voi fate in realtà non hai un account, fai clic qui per crearne uno, quindi molto semplicemente potete mettere la mail tipo prova 999 chiocciolagmail.com avanti è già un accanto Microsoft, porca miseria culo allegro infame chiocciolagmail.com spero non sia presa anche questa ok, culo allegro infame si può, potete mettere una password qualsiasi, io ne metto una che può essere questa ok ci chiede qua di mettere nome e cognome, quindi potete mettere come nome culo e come cognome allegro per dire aggiungi dettagli, non ci interessa, informazione obbligatoria, dovete dire almeno che la vostra data di nascita, magari del 1980 giustamente voi avrete inserito la vostra mail corretta, vi arriva alla mail il codice che voi inserite qua una volta che avete inserito questo codice potete andare sul sito di Fortnite Store per prendere la skin Ion se l'avete fatto prima, non è un problema, il proprietario vi manderà una mail con detto ho bisogno di accedere al vostro account Microsoft quindi voi darete la mail e la password in modo che lui acceda e vi riscatti la skin Ion ma non è finita, perché il problema principale è che serve obbligatoriamente un Xbox per poterla riscattare quindi dovete avere un amico che ha l'Xbox, fargli scollegare l'account, dargli i vostri dati quindi mail e password, al che dovete dargli anche i dati del vostro profilo sempre la mail e sempre la password il vostro amico dovrà loggare con la sua Xbox al vostro account Microsoft dopodiché accederà a Fortnite con nome utente e password, mail e password del vostro profilo di gioco in questo modo appena entrerà vi verrà data la skin dell'Xbox lui poi sloggerà e voi se giocate da qualsiasi piattaforma la potrete avere spero ragazzi di avervi un pochettino spiegato anche questa guida per chi aveva dei dubbi vi ricordo che avete sommerso di mail, avete sommerso di ordini il ragazzo che gestisce il sito Fortnite Store quindi abbiate un po' di pazienza, vi arriverà sicuramente a tutti vi ringrazio per aver guardato questo video noi ci vediamo domani mattina alle 8 in live ciao ciao